Grazie a tutti, volevo per prima cosa farvi vedere il trailer del gioco che uscirà se gli dei ci sanno propizi tra una settimana e quindi vado a fare play a far away this beggar shall ride to a world full of dangers but with a mask granting godlike powers even a beggar can become a hero the beggar's ride, a journey fit for a god Va bene, questo è il trailer del gioco che vi ho detto uscirà tra una settimana ma prima di arrivare a questo abbiamo dovuto ovviamente fare un lunghissimo processo produttivo che per noi ha rappresentato alcune difficoltà che sono quelle di cui vi voglio parlare oggi che credo siano interessanti anche per voi perché è stata una sfida? perché questo, il nostro terzo gioco, è stato il primo con una grafica 3D il primo con un level design molto complicato in cui dovevamo tenere conto del movimento del nostro personaggio delle interazioni con la grafica, della memoria soprattutto un gioco mobile e quindi abbiamo dovuto in corso d'opera perché i tempi delle start-up sono strettissimi non ci possiamo permettere due o tre mesi di preproduzione e sapere che per un anno potremo svilupparlo i soldi sono quelli, bisogna ogni pochi mesi convincere i crudelli investitori o i crudelli publisher che il progetto è effettivamente buono e quindi si è sempre con una scadenza che come una spada di Damocle rischia di tagliarci in due e arrivare ogni volta a piccoli passi a fare un prodotto completo da cosa siamo partiti? da un'idea, ovviamente ci siamo sentiti intorno a un tavolo e abbiamo detto vogliamo fare un nuovo gioco che possa far vedere che sappiamo anche cimentarci con grafiche con contenuti impegnativi cosa vogliamo fare a quel punto? come sempre cade il vuoto, l'ombra, lunghi momenti di silenzio finché non ci è venuto in mente di fare un incrocio tra un puzzle game e un platformer quindi un gioco in cui si alternassero momenti di saltare schivare ostacoli e tutte quelle cose che succedono nel platformer a momenti più riflessivi di soluzioni enigmi raccolta indizi e ragionamento dei puzzle game questo ci sembrava adatto a un gioco mobile per le modalità di fruizione non volevamo un gioco eccessivamente in azione dato che con i tablet e i cellulare ci si gioca in metropolitana in treno mentre si è in coda alla posta quando si è in bagno e queste cose qui e quindi sezioni di gioco abbastanza brevi non troppo intense che potessero attirare un grande spettro ai giocatori fin da subito volevamo come target i mid core quindi non i peggiori casual che più che i candy crash e giochi del genere riescono a fare ma neanche il public core core che è incredibilmente esigente ed è difficile che un piccolo studio possa andare a intercettare quei giocatori che giustamente pagano e si aspettano contenuti molto difficili molto completi molto profondi quindi una via di mezzo da cosa siamo partiti appena riesco a far funzionare questo trabiccolo da una presentazione che è questa che ora voi vedete con la grafica ma all'inizio aveva solo qualche testo qualche piccolo disegno fatto dai nostri artisti in cui abbiamo elencato come prima proposta di gioco quello che volevamo fare quindi per prima cosa il personaggio è come vedete questo vecchio barbone abbastanza simpatico sembra un po' babbo natale se volete e perché lo abbiamo scelto per prima cosa per tentare di distinguerci il panorama dei giochi mobile è confinato bisogna in ogni modo ricercare l'originalità per tentare di emergere e quindi abbiamo deciso di prendere un protagonista insolito inoltre un vecchio ci veniva comodo per giustificare un gameplay nella part action comunque abbastanza lento uno perché è più facile tecnicamente da fare due per il discorso che facevo prima delle modalità di frizione del ritmo di gioco non volevamo che fosse Sonic questo gioco che non fosse basato quindi sulla velocità ma più su calcolare i tempi saltare al momento giusto quindi una cosa abbastanza statica e quindi un vecchio ciccione che lentamente si trascina cercando il suo cartone di tavernello poteva andarci bene l'altra cosa volevamo che questi due momenti di gioco fossero ben distinti quindi ci è venuto in mente un piccolo trick di dare a questo barbone dei poteri divini che lui può usare cosa succede però nel gioco? quando lui va nella sua modalità divina che è questa seconda parte che voi vedete i colori e tutta la grafica del gioco cambiano la telecamera fa uno zoom indietro i controlli base vengono bloccati perché essendo un gioco touch ci serviva a fermarlo se volevamo che il giocatore potesse interagire con lo sfondo con l'acqua le nuvole il sole la luna e quindi c'è questa modalità praticamente bloccata dove però il giocatore può spostare rocce creare pioggia spostando le nuvole muovere gli astri celesti lanciare fulmini e tutte queste cose quindi questo è quello che sapevamo cos'altro sapevamo? molto poco in realtà sì questa dicotomia umano divino che sarebbe stato molto diverso graficamente qui ora vedete la versione divinitiva ma è venuto a fare lunghi studi prima avevamo provato con una luce sparata da dietro poi con delle ley line in evidenza tutte cose che poi non funzionavano per un motivo o per l'altro e avevamo una piccola idea di storia volevamo fortemente fare un gioco narrativo ma abbiamo da subito avuto i problemi di design nel senso che le storie costano le scene costano sono asset molto complicati da fare i movimenti di camera il doppiaggio e quant'altro e quindi abbiamo cercato una soluzione la soluzione è arrivata per caso come quasi tutte le buone idee e abbiamo pensato di fare questa storia abbastanza poetica molto allusiva che non va molto nel dettaglio ma da suggestione al giocatore viene presentata tramite testi in realtà aumentata integrati con lo sfondo del gioco che chi è interessato alla storia può leggere può soffermarsi invece chi non gli frega niente sono molti giocatori può andare avanti e non ha nessuna interruzione nel gioco questa ricerca molto grafica come accennava il primo professore ci ha creato però il problema che ogni volta il gioco viene localizzato in una lingua noi dobbiamo andare a lavorare di nuovo sui testi per posizionarli uguali all'inglese come li volevamo perché magari sono in evidenza su una roccia che cade o rotola e quindi devono seguire dei contorni precisi e i maledetti traduttori non rispettano mai nessuna delle indicazioni che noi gli diamo e quindi con inglese tedesco francese spagnolo ci potevamo arrabattare e con il cinese diventa molto più complicato e quindi grazie a Dio Apple ci ha fatto la grazia di rimandare questo sublizio molto bene quando finalmente abbiamo poi finito questa presentazione abbiamo presentata a eventuali publisher soprattutto ai nostri investitori e il concetto base del gioco è piaciuto a questo punto bisognava a ogni costo fare un prototipo per vedere se il gioco poteva funzionare e come quindi la prima cosa che si fa a questo punto con delle idee in mente quindi abbiamo un barbone sappiamo che deve saltare deve aggrapparsi deve fare tutto quello che si fa nei platform e deve avere alcuni poteri abbiamo iniziato a scrivere un documento di design che poi siamo andati ad aggiornare nel corso di tutta la produzione ed è questo fondamentalmente un documento di design è un grosso e noiosissimo foglio excel in cui abbiamo elencato la prima cosa i comandi all'utente quindi dei semplici tap degli swipe per far muovere saltare muotare aggrapparsi il nostro barbone e abbiamo pensato a un paio di poteri nello specifico i primi poteri che gli abbiamo dato erano il potere della pioggia quindi trascinare due nuvole far piovere quindi giocare con tutta la fisica dell'acqua riempire vasche azionare mulini far crescere piante e fiori e il potere del terremoto quindi utilizzando quell'affare lì del pad che tutti voi sapete come si chiama ma che mi sono dimenticato inclinare lo schermo cambiare la gravità far cadere sassi e quant'altro azionare le leve e quanto funzionare quindi anche qui abbiamo fatto un breve elenco di quelli che potevano essere i poteri e soprattutto del loro input per renderci conto già in questa fase se ci potevano essere conflitti se tutto poteva funzionare se tutto era abbastanza intuitivo e ci siamo messi a pensare solo sempre su carta a qualche possibile ostacolo e elemento di gioco quindi piattaforme spike nemici e a questo punto ci siamo messi a lavorare abbiamo disegnato un livello molto banale mentre i programmatori iniziavano a fare le prime cose di codice quindi come si muove questo barbone come salta e come tutto noi designer abbiamo iniziato a disegnare gli ostacoli le piattaforme e i grafici hanno iniziato a disegnarlo la prima versione è stata un po' una tragedia perché non mi ricordo bene per quale in fausta decisione si era deciso di fare un unico gigantesco e orribile blocco in zbrush che per carità è una drogol sola ma presentava migliaia di problemi penso che questo è in realtà abbastanza bello una volta che prende le sue texture però che problema ha che tutto è fisso e quando io mi rendo conto che questo salto magari è troppo complicato per modificarlo bisogna distruggere tutto rifare le UV di tutto un livello enorme e porta via un tempo esagerato e quindi non poteva funzionare ci è andato abbastanza bene per fare il prototipo quindi una zona piccola loro hanno potuto farla più velocemente perché non hanno dovuto fare nessun elemento modulare loro avevano un semplice disegno dove sarà mai no è questo avevano sempre questo disegno fatto dal nostro grafico che dava un po' il mood dei colori e di quello che sarebbe stato il nostro canyon che volevamo fosse il primo livello questa terra desolata e da qui sono riusciti ad arrivare a quel prototipo in zeta brush prototipo che più o meno funzionava questo era poi il risultato in gioco montato su Unity quindi da qui dovevamo tentare di capire se le meccaniche erano abbastanza divertenti se poteva funzionare e nonostante i suoi mille limiti primo quello di essere orribile ma i giochi sono orribili fino a due settimane prima della consegna perché i tocchi di classe e gli abbellimenti sono l'ultima cosa qui avevamo queste bellissime gigantesche sfere verdi che sinceramente ignoro cosa siano queste belle particelle d'acqua ma più o meno il barbone saltava questi puzzle con l'acqua sembravano funzionare e quindi abbiamo deciso di sì di farlo e di cominciare davvero a cercare una pipeline che potesse funzionare quindi prima cosa è stata quella di cambiare l'approccio alla grafica perché come detto non poteva funzionare questo enorme blocco scolpito per quanto bello quindi abbiamo tentato un approccio più modulare mentre io disegnavo i livelli su carta già i grafici iniziavano a fare dei piccoli elementi che poi combinati insieme avevo potuto fare quasi qualunque livello quindi ho iniziato a fare molti asset di rocce di piattaforme di tutto quello che poteva servirci mentre io e l'altro designer facevamo un progetto su carta che è più o meno questo questo è un livello completo qual è l'utilità di fare per prima cosa un errore del genere per prima cosa per il ritmo del gioco come dicevamo noi volevamo che fosse alternato tra momenti action e momenti più espressivi quindi si inizia partendo dalla carta a mettere un puzzle poi alcuni ostacoli poi un altro e vedere proprio calcolando virtualmente i tempi se più o meno può corrispondere alle aspettative che si volevano dare un'altra cosa molto importante in questa fase è iniziare a pensare a quelli che saranno tutti gli elementi di gameplay che sono rincate in questa orribile leggenda qua sotto purtroppo le mie capacità grafiche sono quelle che sono che poi i programmatori avrebbero dovuto realizzare per far funzionare il livello e già qui ci si poteva accorgere di alcuni problemi di se avrebbero funzionato se avrebbero occupato troppa memoria quanti elementi mobili ci sarebbero stati come caricarli e tutto quanto un'altra cosa molto importante in questa fase di cui ci siamo accorti è tentare di dare qualche suggestione ai grafici per poter rendere interessante il livello il primo livello se vedete era quello che vi ho fatto vedere prima era solo un grosso blocco di roccia senza niente di monumentale di bello di suggestivo perché l'avevamo fatto riflette e quindi aveva solo delle linee delle piattaforme e non aveva niente intorno in questo abbiamo già voluto dare qualcosa e quindi doveva essere questo grosso tempio dove il barbone trova il potere di muovere il sole la luna le sfere cesti le stelle incastonato al centro di una valle di cui avevo già tracciato le linee in modo che poi quando gli artisti sarebbero andati a lavorare sopra avevano avrebbero già avuto una linea guida perché per quanto loro possano essere bravi se è totalmente piatto e anonimo l'inglombo che loro devono rispettare per forza perché altrimenti il gioco non funziona si trovano incredibilmente castrati quindi qui lavorando un pochino di concerto col due di artist abbiamo deciso di fare questo grosso tempio che avrebbe dovuto essere la scenografia fondamentale e le due parti di vallata qual è lo step successivo è di andare a lavorare su Unity senza avere ancora nessun asset fondamentalmente quindi non c'è grafica c'è solo il codice base che serve a far muovere il nostro barbone si va a creare usando gli asset value di Unity quindi delle mesh quadrate delle mesh tonde e poco altro qualcosa del genere come vedete già ci sono delle importanti differenze rispetto al progetto su carta perché ci siamo accorti che la sezione quadrata all'interno della pinambi non funzionava che era per questioni di camera di gioco meglio farla in questo modo più schiacciato e un tot di altre cose questo realizzato solo con asset base di Unity ancora all'inizio non si muoveva niente e una volta che però abbiamo visto che poteva funzionare lo si giocava tutto controllando fondamentalmente se in un platform gli ingombri cioè se ogni salto poteva in effetti essere fatto dal personaggio se ogni cosa poteva in futuro avere una difficoltà più o meno in linea con il resto del gioco e in questa fase è molto difficile capire davvero come sarà il gioco perché i movimenti non sono definitivi le animazioni non sono definitive non saprete davvero quanto per esempio salterà il vostro personaggio voi avete il giro che salterà 5 unità di Unity ma poi con le animazioni con tutto quello che conseguirà sarà un pochino diverso quindi in questa fase però è fondamentale tentare di riuscire ad astrare e capire se può funzionare può essere divertente cosa si fa dopo per comodità abbiamo realizzato dei piccoli script che potessero simulare molte cose del gioco fondamentalmente il movimento delle piattaforme e l'uccisione quindi io con quegli strumenti per carità bagatissimi e essenziali ho tentato di dare un po' di fisica di movimento a tutto questo livello per vedere appunto se funzionava se era vagamente divertente o se era orribile e il risultato poteva essere qualcosa del genere questa è la nostra schermata Unity questo è quando giochiamo il gioco come ho detto è orribile all'inizio avete queste animazioni orrende queste piccole piattaforme che si muovono senza fare davvero niente però qui già si poteva intuire quale sarebbe stato il ritmo del livello quale era il tema e quindi tutte queste trappole queste cose avranno un nome ma io lo ignoro e da qui appunto si inizia a dire va bene questo funziona facciamone uno script vero per esempio qua ci siamo accorti subito ma servirà anche uno script per gestire la camera delle zone separate quindi qui dobbiamo alzarla dall'altra parte dobbiamo restringerla e quindi tutte le problematiche davvero serviranno per quanto un designer possa essere bravo è impossibile per vedere le prima bisogna fare molte fasi di prototipo e pian piano vedere un altro discorso va sulla difficoltà nel senso che è molto difficile tunare precisamente la difficoltà in questa fase bisogna avere una vaga idea di dove siamo nel gioco questo era il quarto livello ma quello che abbiamo realizzato per primo perché l'abbiamo realizzato per primo perché partire da metagioco permette di creare una base comune e soprattutto i primi livelli sono fondamentali perché sono quelli che l'utente vedrà per primo quelli che i publisher vedranno per primi quelli che il malvagio signor Apple vedrà per primi no fermati fermati sono spoiler questi quelli che il malvagio signor Apple vedrà per primi quando decide il vostro futuro sulla sua sedia d'oro e è importante che siano belli quindi si fanno alla fine una cosa che abbiamo notato per la difficoltà è che è meglio iniziare da una difficoltà più alta quindi salti misurati tempi molto stretti perché è sempre più facile togliere che aggiungere se io avessi dovuto aggiungere una trappola dopo che la grafica era stata fatta sarebbe stato un delirio avrebbero dovuto ridisegnare tutto rifare le mesh rifare gli script e probabilmente mi avrebbero scorciato le gomme della macchina invece qui se sono troppe toglierne una è molto più facile infatti poi vedrete di tutta quella discesa tra le spike che si muovono ne abbiamo tolte più o meno la metà semplicemente togliendo gli script sono piattaforme che non si muovono più e la difficoltà è quella che ci soddisfa fondamentalmente dopo aver fatto l'intero livello in questo modo quindi disegnandolo con queste mesh orrende e provandolo centinaia di volte quando è più o meno definitivo a livello di ingombri si può passare a farlo conceptare agli artisti 2D che sono quelli che poi diranno agli artisti 3D cosa fare quindi potete riconoscere più o meno gli ingombri come esso queste ruote però qui diventano qualcosa quindi avevamo deciso che il tema del livello sarebbero state cerchi di piattaforme in movimento dato che era il tempio delle sfere celesti quindi volevamo dare questo senso di movimento di rotazione quindi abbiamo fatto questi enormi ingranaggi queste ruote dentate e quant'altro e di progetto in progetto sempre più dettagliato vedete questo chissà se riuscirò a zoomare questa è proprio la parte che stavo giocando prima che è stata disegnata in questo modo quindi riprendendo l'idea iniziale mia di mettere tutti gli spike dietro il muro per creare questa sorta di tempo indiana jones con le cose che si muovono giustamente è stata rielaborata e fatta in una maniera un pochino carina dopo che il progetto su carta soddisfa si fa un un artwork completo soprattutto con una mappa di colori che è una cosa del genere qui vedete abbiamo deciso di dare questo passaggio di colori dal grigio al più colorato a poi lì dentro la piramide ancora non sapevamo bene cosa sarebbe successo ma sapevamo sarebbe stata una cosa importante quindi abbiamo tenuto grigio per farlo dopo a questo punto il livello è pronto per venire realizzato in Maya in ZBrush qualsiasi programma venga usato per creare gli ingombri e le mesh 3D finora c'è stata solo l'antica lotta tra designer e programmatori in cui i designer tentano di avere il più script possibile più cose dettagliate i programmatori rifiutano ogni volta perché occupano troppa memoria quindi più o meno siamo riusciti a gestire tutto questo con 3 o 4 script incricchiandoli in un certo modo infatti all'inizio non funzionava niente però cosa succede adesso in questa eterna lotta si aggiungono gli artisti 3D che sono gli arci nemici sia di programmatori che di designer perché loro sono molto bravi per carità sono molto creativi ma hanno tutta una loro lista di priorità per esempio hanno questo strano valore che è la bellezza che secondo loro è importante e quindi tu per esempio dici bene ora dovresti farmi questi cristalli qua sotto fammeli del colore che vuoi ma ti prego non verdi dopo due giorni arrivi in studio vedi dei bellissimi cristalli verdi non si può fare niente un'altra cosa che succede di solito in questo momento è che dato che i salti magari erano molto misurati tutte le per un errore probabilmente di design iniziale quando loro vanno a scolpire tutti questi angoli retti tutte queste mesh molto piene devono diventare qualcosa di bello con una forma credibile tutto il gioco è meno preciso quindi magari ci sono momenti in cui non riesce più a saltare non entra in un tunnel non va dove dovrebbe e quindi qui l'unica possibilità è andare ogni volta a mettere una pezza con degli script in cui gli si fa per esempio ignorare una certa collisione non si mette un mesh collider si mette un collider a box o quant'altro per tentare di riportare il tutto al flow originario questo lavoro a metà è più o meno così mentre nel 3D si stanno iniziando a disegnare tutto quello che sarà questa volta vedete non è più un pezzo unico ma ognuna di queste cose sono pezzi singoli a parte le grandi scenografie che si possono montare e soprattutto spostare con una discreta facilità nel gioco completo poi com'è venuta questa parte che giustamente vedo per vedere se sapessi che sarebbe tutto molto meglio questo è quello che come è diventato poi nel gioco completo quindi vedete le camere sono a posto è rimasto l'intuizione iniziale quindi di queste piattaforme che si muovono ma sono molto più lente il barbone ha salti completamente diversi finalmente c'è la grafica soprattutto e anche vedete non ci sono più cubi ma queste piattaforme già divise in due parti che hanno creato non pochi problemi però questo è più o meno il risultato semidefinitivo questo è di un paio di settimane fa è più o meno così ve lo giuro non sempre le cose vanno così bene nel senso non sempre si riesce a passare dal progetto su carta a una realizzazione vera e definitiva o per problemi di codice o per problemi di grafica ma più spesso per problemi legati al design qualcosa che sembrava funzionare su carta molto bene in gioco poi assolutamente non va non funziona vi ho preparato un esempio che è la parte centrale di questo livello che se vi ricordate nel progetto era quella parte fatta questa parte centrale doveva essere all'inizio un insieme di quadrati che ruotavano sull'asse della z mentre queste cose verdi andavano avanti e indietro con la punta gialla doveva essere un pericolo quindi il problema è venuto a schivarle saltare sull'una e sull'altra e aprirsi la sua via verso il centro e questo ci ha dato un pochi problemi è stata una delle parti del gioco che abbiamo reworkato di più siamo partiti da questo l'idea ci piaceva di dare questo movimento concentrico con al centro il nostro potere che permetteva di muovere il sole la luna e le altre stelle e la prima versione che abbiamo fatto abbiamo subito abbandonato l'idea dei quadrati perché non funzionava minimamente e abbiamo pensato di usare dei cerchi con i cerchi il risultato era qualcosa di questo tipo quindi tenendo l'idea di due cose che girano piattaforme che vanno avanti e indietro qui non c'era ancora nessuno script era ancora fatto con le poche cose a livello di prototipo quindi vedrete che non funziona niente sale le scale in questo modo orribile ma serviva solo per vedere se avrebbe voluto funzionare mi vergogno molto di questo non dito a nessuno da qui iniziavano i primi problemi era incredibilmente difficile poter salire prendere il tempo giusto ce la facevo solo io dopo migliaia di tentativi e succedevano anche queste cose e purtroppo in questa fase voi dovete da questo tentare di immaginarvi come sarà dopo il gioco sicuramente dopo ci sarebbero state del check per delle collisioni succedevano queste cose bizzarre che non sono mai più riuscito a replicare però da questo sì poteva essere carino però aveva mille problemi come vedete lui compenetra in ogni modo quando la mesh gira i suoi piedi rimangono storti ed ha anche un notevole senso di nausea quindi era il caso di evitare abbiamo iniziato a cercare una soluzione la prima idea è stata quella al posto di questi ingombri fatti di qualcosa di solido noi all'inizio ci immaginavamo pietra o qualcosa del genere pure morto poverino che fine orribile ok non si muove perfetto di fare qualcosa di più soffice in modo che potessimo nascondere le compenetrazioni con i piedi quindi magari questi cerchi di nubi o di nuvole su cui lui poteva restare o fare un cambio di gravità addirittura però anche quello non funzionava era macchinoso poco divertente a livello tecnico molto complesso soprattutto la parte delle nuvole quindi fare mesh in semitrasparenza con FX gli iPhone 5 vomitavano bile tentando di far girare questa cosa non ci avrebbero mai pubblicato c'era propriamente rinchiuso da qualche parte quindi abbiamo dovuto a un certo punto a metà del livello con la consegna vicina tentare un rework e il rework qual è stato? un'intuizione del genere di tenere il concetto di cerchi che girano ma fare come se fosse questo coperchio di piattaforme intorno al punto centrale ormai distrutto quindi ce ne sono molto poche su cui il barbone poteva aprirsi la via saltando da una all'altra questo manteneva il concetto e lo rendeva un pochino più giocabile però vedete anche qui sono molti problemi tipo le piattaforme davanti che rendono impossibile completamente la visuale il fatto che lui scivola in questa maniera completamente irrealistica e questa velocità folle che lo rende davvero davvero molto difficile però questo a differenza di quello di prima offriva possibilità di miglioramento ci siamo accorti che su questo ci si poteva lavorare più o meno poteva diventare qualcosa adesso quindi la prima cosa è stata lavorare dal punto di vista di design a livello di codice nel senso che io avevo in questo momento solo due script uno che mi permetteva di far ruotare gli oggetti e l'altro di muoverli su qualunque asse ed è tutto fatto con Unity quindi una volta che si ha a disposizione due cose così semplici Unity è molto molto flessibile e permette di creare cose di questo tipo avevamo solo a livello grafico animazione del barbone ancora però in fase molto rudimentale che ci permettevano di calcolare distanze qui non c'era ancora nulla di quello che poi avrebbe gestito davvero e che poi sono le cose in cui un designer lavora davvero difficilmente si riesce a lavorare con già tutti gli script giusti e quindi è questo quindi la prima cosa era stata lavorare a livello di design per renderlo quantomeno un pochino più facile e quindi siamo arrivati a una soluzione del genere quindi come vedete è molto più lento abbiamo creato uno shader che potesse gestire un materiale alfato per avere le piattaforme in primo piano trasparenti e provare a rallentare che è un altro problema che mentre voi state facendo un gioco voi ci giocate otto ore al giorno e è difficile rendersi conto della vera difficoltà che può presentare io a un certo punto qua ce la facevo abbastanza agile ma nessun altro in ufficio o fuori ce l'ha mai fatto oltre me quindi lì mi è venuto un vaghissimo sospetto che forse fosse ancora una follia qui abbiamo ancora il problema se notate dei piedi del barbone che come abbiamo poi risolto inclinando le piattaforme in avanti in modo che quello che succede dietro non si vede non abbiamo dovuto scrivere linee di codice se ne fanno animazioni semplicità abbiamo sì allora a questo livello ovviamente non si fa una vera fase di testing esterno perché il gioco è in stato impionare teoricamente tutti quindi anche i grafici programmatori ogni tanto dovrebbero provarlo soprattutto quando il designer ha dubbi la realtà è che nessuno ha mai tempo di fare niente e quindi lo provavo io e tentavo di capire di estranearmi di vedere se la difficoltà era quella giusta o no non è sicuramente la cosa giusta da fare bisognerebbe sempre avere una persona quantomeno esterna al design che lo provi però è difficile averla soprattutto in uno studio da all'epoca eravamo in 13 non era facile quindi ci si arrangiava un po' come era possibile anche per questo ci sono stati così tanti errori perché quando tu lo vedi io ci stavo lavorando da una settimana a questo ormai ero completamente a suo fatto e quindi ho avuto molti problemi finché poi qualcuno si è liberato e non siamo riusciti ad arrivare più o meno a questa versione che nel gioco finale è diventata invece ancora più facile di così qualcosa del genere vabbè spero non vi dia noia questo difetto purtroppo è rimasto ma la qualità è quella che è perché ho usato un programma di cattura video indiano che non ha pietà per niente per nessuno e qui abbiamo deciso di mettere questa animazione per sfruttare poi tutte le piattaforme creare questa scala dove poi lui più o meno salirà e questo è quanto per quello che riguarda il design di questo livello design che questo procedimento questo è stato il livello di test ha funzionato questo procedimento ha funzionato abbiamo quindi trovato una pipeline più o meno definitiva e siamo riusciti ad andare un po' più spediti facendo livelli quindi prima un design embrionale su carta un design su unity con le sue mesh nel frattempo si inizia a disegnarlo in 2D in 3D si testa e si inizia una lunghissima fase di polishing che poi è quella che prende più tempo perché una volta che i meccanismi in base del gioco sono stati decisi si vede che funzionano bisogna andare a limare proprio i piccoli dettagli quel mezzo centimetro di pietra che fa sbattere la testa quel puzzle un pochino troppo difficile o troppo scuro e quant'altro quindi a questo punto il gioco era quasi pronto c'è stata un'altra grossa sfida che è quella che ci ha portato via più tempo oltre il polishing che sono i signs and feedback cioè come comunicare al giocatore ovviamente per noi a questo punto completamente a suoi fatti dal gioco era molto difficile capire cosa davvero il giocatore riuscisse a comprendere di quello che gli stavamo dando noi dovevamo dirgli fondamentalmente tre cose la prima era come fai a muoverti abbiamo due sistemi di controllo tap e virtual stick e abbiamo fatto circa 12 tutorial prima di arrivare a quello definitivo perché dovevano essere da una parte leggeri da una parte in grado di far capire a tutti subito come si potessero giocare lì l'unico modo è stato provarne tanti e lì davvero abbiamo dovuto fare molti test prendere soprattutto non giocatori e osservarli mentre giocavano e vedere se capivano o no sono testuali i nostri tutorial poi vi farò vedere sul gioco che purtroppo non posso attaccare e più o meno riuscivano nell'intento quindi quello l'abbiamo chiuso relativamente in fretta un altro problema è come vi dicevo questo barbone può andare nella sua modalità divina il gioco la grafica cambia e lui può interagire con alcuni oggetti tramite i suoi poteri come far capire al giocatore quali erano questi oggetti la prima idea era stata quella di colorare di rosso con un highlight tutti gli oggetti di gameplay quindi tutto quello che si muoveva o che lui avrebbe potuto muovere o i nemici o le scale o le monete da raccogliere diventava rosso questo era per dargli un piccolo hint senza proprio dirgli guarda puoi muovere queste due o tre cose quindi cerca un po' cosa fare contate che a questo punto i poteri erano più o meno quattro lui poteva spostare le nuvole inclinare lo schermo spostare alcuni tipi di rocce e spostare il sole la luna e le stelle quindi giustamente seguendo questo ragionamento le nuvole nella modalità divina diventavano rosse e quindi il giocatore la prima cosa che imparava a fare era trascinarle una sull'altra quando poi nel secondo puzzle il giocatore vedeva un altro oggetto rosso giustamente tentava di trascinarlo perché aveva associato la gesture al colore e questo per noi però non poteva assolutamente funzionare perché non doveva essere così doveva essere tu su quello gli fai piovere sopra e allora succederà qualcosa anche lì certi tipi di ricerche anche di decisioni filosofiche dietro cioè quanto vogliamo aiutarlo quanto non vogliamo aiutarlo vogliamo che la difficoltà sia cercare degli oggetti nascosti o tu sai subito con cosa puoi interagire e poi vai a cercare di capire come dopo varie prove siamo arrivati alla conclusione di va bene tutto quello che puoi toccare avrà un glow bianco sarà molto evidenziato così tu sai che il tuo input di touch è su pochi elementi tutto quello che indirettamente puoi controllare sarà come prima colorato di rosso tutto il resto invece non avrà nessun colore così a noi sembrava molto facile ma in realtà abbiamo visto che giustamente chi non conosceva benissimo i puzzle ci metteva un po' ma non era frustato perché sapeva c'è una roccia e c'è un interruttore evidentemente devo far cadere la roccia sull'interruttore ora devo capire come e a questo punto abbiamo dovuto fare un redesign di un paio di puzzle perché erano troppo facili a questo punto ma tutto funzionato abbastanza bene cos'altro posso dirvi che sono cose che non sempre si riesce a progettare tutto a tavolino ma ah no non ho qua il video quindi niente lo farò vedere al massimo dopo niente questo è stata la nostra pipeline le altre decisioni che abbiamo preso erano più di alto livello in fase di concept quindi che tipo di storia fare che tipo di monetizzazione fare per il gioco se avere in approach o un gioco a prezzo fisso di un certo tipo abbiamo scelto di fare un gioco a prezzo fisso perché uno non ci piacciono tantissimo gli in approach poi perché pensiamo che un gioco di questo tipo quindi un'esperienza un gioco che uno comunque finisce in due o tre ore che racconta una storia così sia meglio avere un gioco di qualità dall'inizio alla fine che ti puoi godere come vuoi piuttosto che invece che ogni cinque minuti ti chiedo dei soldi o che ti faccio giocare un quarto d'ora al giorno probabilmente non è la scelta migliore per il mercato però un po' filosoficamente era quello che volevamo niente la mia presentazione più o meno finisce qui ho molto materiale se avete domande se volete provare il gioco e tutto quello che volete sono a vostra disposizione grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille